Sì, è arrivato. Occhio ragazzi, cosa si pare? C'è il traffico, eh sì, si libera qualcosa. C'è il traffico. C'è il traffico. Ok, il traffico parte. C'è la miseria, guarda, un ammigo là laddì. ma come escono? ma come uscite? in un'azione che vi faccio un nuovo sottoletto a fare un'altra cosa è la tua scuola l'altra scuola è la tua 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 scuola Grazie a tutti. Grazie a tutti.